Parole e suoni, un corso di alta formazione dedicato allo studio sulla dizione, sulla lettura espressiva e sulla comunicazione, organizzato dall'Università per Stranieri di Perugia. Questo corso vi darà gli strumenti e le competenze per utilizzare bene la lingua italiana, sia in chiave professionale che in quella interpersonale. Oggi comunicare è importantissimo e saper comunicare bene senza cadenze dialettali o senza vizi di forma è uno strumento essenziale per promuovere la vostra immagine comunicativa. Partecipate dunque al corso.